Ciao a tutti, io sono Elisa e io sono Matilda. Abbiamo aperto questa pagina per condividere con voi tutte le nostre cose che ci piacciono, ad esempio il make-up e troverete anche video haul e cose di questo genere. Se avrete richieste potremmo fare anche dei video che ci proporrete voi. Come prima cosa, domani vedrete il nostro primo vlog, così ci potrete conoscere meglio. Noi andiamo a scuola insieme e niente di quello che ho detto. E niente, sì, prima noi avevamo un canale, diciamo, su YouTube, solo che non ha avuto molto successo e poi eravamo anche un po' andrati, così allora abbiamo detto proviamo su Facebook e è più facile anche per noi. E allora niente, siamo qua e vi volevo presentare come prima cosa perché lei non mancherà mai, mai. Guardate, preparatevi. Lei è un po' pesato. Lei è Puzzetta. Lei è Puzzetta. Lei è Celsi. Lei si chiama Celsi. Che potete chiamare Puzzetta. Esatto, è la nostra Puzzetta ed è la nostra mascotte. E sarà presente in molti video. Esatto, perché non può mancare. Esatto, è il suo cane, eh. Vabbè, lei è la mia zia. E tira la sua folla. È molto bella, guardate. Vabbè, ve la faccio vedere in tutto il suo splendore. Esatto, guarda su di cani. È Puzzettiona. Ciao. Ciao Puzzettina, saluta. Ciao. Bene, adesso sembra un po' così perché stava dormendo. Stava dormendo, infatti l'abbiamo disturbata. Però è molto più vivace di quello che sembra. E niente, dai, mettete mi piace alla nostra pagina perché vi terremo sicuramente compagnia. Esatto, perché avete già capito come siamo. Esatto. Ah, è una cosa che tengo a precisare. Noi, lei, come ha detto lei prima, faremo dei video tutorial di make-up, così. Non ci si aspetti cose molto, cioè sono tutti molto semplici per le persone comuni che più ma tengono a tenersi un po' su, però non è che amino magari facili trucchi eclatanti. Ma non esagerato, comunque, delle cose semplici, semplici, esatto, per tutti. Ecco. Sto morendo. Sto per suicidare. E niente, io volevo dire una cosa che adesso mi sia strana. Non mi ricordo più. Io sto per stare a dire in diretta. E niente, dai. Lei è di Parma? Sì. Io sono in provincia di Parma, però abito in un paesino più montagna. Quindi può essere che a volte vedrete dei video dove c'è solo lei o dei video dove ci sono solo io e dei video anche insieme. Però non sempre saremo insieme nei video. Vedrete dei video un po' non molto tecnici. Esatto. Con la tecnologia no. Niente. E niente. E niente, vi salutiamo, iscrivetevi, mettete mi piace alla nostra pagina e domani sicuramente caricheremo il vlog se riusciamo. Se riusciamo. Se. Ciao. Ciao. Vai? Saluta. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Però mi... Muffa. Ciao a tutti. Non ti devo guardare. Io niente, non posso guardare. Io non ti devo guardare. Ciao a tutti. Io sono Elisa. Io sono Matilda. No, non ti devo guardare niente da lì. Ciao a tutti. Io sono Elisa. E io sono Matilda. E abbiamo... Abbiamo fatto... Io non ti devo guardare. E io sono... Grazie a tutti.